Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti. Eccomi qui con un nuovo video della serie genitori con le ali. In questo vi voglio parlare di come gestire gli errori che come genitori commettiamo con i nostri figli e portarvi i cinque esempi concreti che ho affrontato questa settimana nel mio lavoro appunto con i genitori. Spesso le mamme e i papà che accompagnano il percorso, genitori con le ali, sono preoccupati di sbagliare con i propri figli oppure si rammaricano e si colpevolizzano per gli errori commessi in passato nel gestire e nell'affrontare i problemi che inevitabilmente crescere ed educare un figlio comporta. Perché quando si ama qualcosa di bello, di straordinario, importante e indescrivibile come sono un figlio o una figlia, tutto chiaramente si vuole per loro tranne che sbagliare, fargli soffrire o creare loro dei problemi o traumi che poi si porteranno dietro per tutto il resto della vita. Il punto è che fare errori come genitori è inevitabile. Siamo esseri umani, siamo fallibili, non siamo supereroi anche se talvolta i nostri figli ci vedono un po' come tali. Facciamo errori allora perché amiamo in modo smisurato i nostri figli? Li facciamo paradossalmente perché abbiamo paura di sbagliare. Li facciamo perché non vogliamo farli soffrire, perché non vogliamo ripetere gli stessi errori dei nostri genitori oppure li facciamo perché commettiamo gli stessi errori dei nostri genitori, proprio quelli che ci eravamo ripromessi non avremmo mai commesso. Sbagliamo con i nostri figli perché siamo presi da mille cose, da mille preoccupazioni, li facciamo perché non abbiamo tempo, siamo di fretta, perché davanti a certe situazioni non sappiamo cosa fare. Li commettiamo perché stare dietro a un figlio oggi, proteggerlo da tutti i pericoli che ci sono al giorno d'oggi, non è per nulla facile, non lo è mai stato, storicamente è così, era difficile per i nostri genitori e per i nostri nonni, ma senza voler per forza passare dalla parte di quelli che hanno più problemi, diciamo che le sollecitazioni rispetto a un tempo, la complessità della società nella quale viviamo, ha sicuramente amplificato quelli che sono le tradizionali difficoltà che i genitori incontrano nei cresciti. Con questo però non voglio né consolare i genitori dagli errori, né sottovalutare gli errori che si compiono, bensì riflettere sul fatto che paradossalmente cercare di essere, a patto che sia possibile, un genitore perfetto che non sbaglia mai, sarebbe per i nostri figli un errore ancora più grave. Lo è per diverse ragioni. Innanzitutto è che avere un genitore, ovvero un modello che non sbaglia mai, indurrebbe nei figli una pressione psicologica opprimente. Cercare di essere a propria volta perfetto, all'altezza del papà o della mamma. E dato che il compito di ogni figlio è cercare di superare i propri genitori, di essere migliori di loro, quale peso si porterebbe dietro nel cercare di assolvere a questo compito? Come potrebbe riuscirci? Sarebbe, per così dire, perdente già in partenza, con tutta una serie di conseguenze non semplici da gestire, come insicurezza in se stesso, senso di ineriguatezza, timore di essere inferiore agli altri. Per cui seconda conseguenza, come farebbe a gestire un figlio di genitori perfetti che non sbagliano mai i propri errori? Penserebbe che per essere amati si debba essere perfetti, sia come figli, quando appunto sta vivendo la dimensione di figlio, sia quando sarà genitore. Ma crescere, imparare, sono dimensioni che inevitabilmente hanno a che fare con lo sbagliare. L'errore, infatti, è parte imprescindibile del processo di apprendimento. E come può imparare a gestire, ad affrontare, a rimediare i propri errori, se non l'ha mai visto fare da uno dei genitori, dal papà e dalla mamma? Significherebbe crescere un figlio che ha paura di lanciarsi nella vita, nelle relazioni, nelle attività, nello sport, nello studio e domani nel lavoro. Ma non solo, avere genitori perfetti significherebbe per un figlio non sapere come comportarsi con le altre persone quando sbagliano e nemmeno lui sapere come comportarsi con gli altri quando sbaglia. Quando sbaglia con i suoi amici o le sue amiche o con il suo fidanzato, quando i suoi amici o le sue amiche, oppure i suoi insegnanti, il suo compagno di banco piuttosto che di squadra, sbaglierà. Come imparerà un figlio a gestire queste situazioni? Come reagirà? Come si comporterà? Il mondo là fuori non è perfetto, è un'ovvietà, una banalità e lo vediamo ogni giorno che passa, no? E allora come potrà imparare a relazionarsi con un mondo esterno imperfetto, pieno zeppo di problemi, di errori, di sbagli, se quello che ha sperimentato in quella che è la famiglia, nel mondo interno, è qualche cosa di perfetto. Riconoscere, accettare e rimediare agli errori che come genitore commettiamo con i figli, allora insegna loro a fare altrettanto innanzitutto con se stessi, a non essere troppo severi con loro e successivamente anche con gli altri. Certo, accettare gli errori non è mai semplice, soprattutto i propri errori come genitori, in particolare quando si è consapevoli di cosa ciò può comportare nella vita dei figli. È chiaro, attenzione, che non sto facendo né un elogio degli errori, né tantomeno di passarci sopra come se niente fosse. Anzi, tutt'altro. Il fatto è che spesso recriminare per gli errori commessi, temere di compierne in futuro, sottovalutarli o ancora peggio ignorare quelli commessi, sono modalità che ne fanno commettere altri di errori, spesso ben più gravi. Accettare allora la possibilità di commettere errori non significa dire che va tutto bene così autoassolversi, anzi significa essere consapevoli che questa possibilità esiste. Significa sapersene fare carico e impegnarsi per evitarli o per porvi riveglio. Allora ribadisco, riconoscere e accettare gli errori e la possibilità di commetterne significa aprirsi a un'altra possibilità, o meglio ad altre due possibilità, vale a dire quella da un lato di rimediare e dall'altro di prepararsi a evitarli. E questi due sono a mio avviso i due soli veri errori da evitare quando si cresce un figlio, ovvero non sapervi rimediare o ripetere sempre lo stesso errore. Perché come genitori sbaglieremo ancora e ancora è inevitabile, ma la cosa importante è di fare degli errori nuovi, di sbagliare in maniera nuova, di non commettere sempre gli stessi errori. E allora vengo alle situazioni che ho analizzato questa settimana con i genitori che stanno seguendo il percorso genitori con le ali. Genitori che non solo hanno compreso e accettato i propri errori, ma che soprattutto hanno capito come potervi rimediare ed evitare di ripeterli in futuro. Penso in particolare alla mamma di un figlio adolescente che si è resa conto che il suo modo di comunicare con lui, la sua attenzione nei suoi riguardi, la sua premura, le sue regole, soprattutto quelle informali, ovvero si è puntuale, si è responsabile, si è ordinato eccetera eccetera. Il suo insistere a che andasse bene a scuola, a preoccuparsi che tutto fosse per così dire a posto, in ordine, non solo le stava impedendo di vivere una relazione serena, appagante con lui, ma addirittura stava rendendo il suo figlio insicuro al punto che il ragazzo si rinchiudeva in camera per sfuggire in qualche modo al giudizio che lui teneva il mondo avesse su di sé. Penso alla mamma di un ragazzino preadolescente di 12 anni che si è reso conto che l'amorevolezza senza fermezza, il dialogo anche laddove invece serve decisione, il tentativo di evitare in tutti i modi il conflitto, di portare pazienza, non solo finiva alla fine per farla scoppiare, urlando magari con il figlio, ma stava anche rinforzando la poca autonomia del figlio nello svolgere i compiti. Altra situazione è quella della mamma che ha compreso come assecondare le richieste di una figlia non mettendole mai dei paletti o non facendoli rispettare, non dandole quelle che io chiamo delle sanzioni o addirittura delle punizioni per cercare di avere un buon rapporto, per cercare di renderla felice e serena di farla sentire amata, la sta portando ad avere una figlia ribelle che non l'ascolta, che dice di odiarla, di non volerla. Penso alla mamma di un bambino di 4 anni che si accorta come sia possibile con le opportune modalità comunicative e relazionali far sì che suo figlio possa riordinare i suoi giochi, stare seduto a tavola mentre si mangia, dormire nel suo alettino, andare a lavarsi le mani quando è il momento di cenare senza per forza dover urlare, alzare la voce, castigarlo, minacciarlo, ma usando il giusto mix di amorevolezza e fermezza. E ha capito che sbagliava non perché non era capace, ma perché fondamentalmente non sapeva come fare ad affrontare queste situazioni. Penso infine al papà di una ragazza di 15 anni che ha capito che il modo con il quale sta comunicando i suoi valori, che condivido, che apprezzo e che rispetto, ovvero il valore dell'impegno, del sacrificio, del dovere, dell'organizzazione dell'ordine, dicevo, il modo con il quale sta comunicando questi suoi valori fondamentali alla figlia, sta minando la sua sicurezza di adolescente, a partire dal fatto, per esempio, che vuole che la mamma l'accompagni dappertutto. Il problema non sono tanto i valori che questo papà chiama la figlia in maniera smisurata, cerca di trasmettere, bensì il modo con cui li trasmette. Ecco che allora questi genitori hanno riconosciuto gli errori, ma nel senso etimologico del termine, cioè conosciuti sotto una veste nuova. Ne hanno compreso la portata, li hanno accettati e questo è stato il primo passo per potersene fare carico e mettere in campo delle azioni, dei comportamenti, delle modalità comunicative e relazionali che gli stanno aiutando, gli stanno consentendo di trovare più serenità in se stessi e nei propri figli, ma soprattutto tanta sicurezza in sé e nei propri figli. Perché la sicurezza in se stessi, tanto tua quanto quella dei tuoi figli, non deriva dal non aver mai commesso errori, ma dall'aver saputo porvi rimedio. Se ci pensi è proprio così, noi acquistiamo sicurezza in noi stessi perché riusciamo a risolvere dei problemi, non perché ci viene tutto facile. È quando siamo ingaggiati, quando siamo stimolati, quando riusciamo a vincere una sfida, a risolvere un problema complesso. È lì che acquistiamo sicurezza in noi stessi ed è lì che possiamo anche dare sicurezza ai nostri figli. Bene, se sei arrivato fino a questo punto del video, molto probabilmente anche tu sei interessato a capire come fare per rimediare o evitare errori nell'educazione di tuo figlio o di tua figlia. Con il percorso Genitori con le ali ho già aiutato decine e decine di genitori a uscire dalla gabbia degli errori in cui erano rinchiuse, in cui finivano per rinchiudere in qualche modo i propri figli. Gli errori recriminati, quelli temuti, quelli ripetuti e soprattutto ritrovare più serenità e sicurezza in se stessi e di conseguenza a essere guide autorevoli e amorevoli per i propri figli, insegnando a loro volta ai propri figli appunto ad accettare e a superare anche i propri errori. In 12 settimane lavorerò con te per far sì che il tuo amore arrivi a tuo figlio nel modo che tu desideri, che i tuoi valori vengano comunicati nel modo più efficace e che tuo figlio capisca che le regole che gli stai dando, i paletti che gli stai imponendo, non sono un modo per inibirlo, per castigarlo, ma un modo per farlo crescere sicuro al riparo dai rischi e dai pericoli della vita. Per questo se sei interessato anche tu a questo tipo di risultati ti invito a visitare il sito e a compilare il modulo che trovi nel link in descrizione o nel primo dei commenti per richiedere la tua videochiamata gratuita di 30 minuti durante la quale capiremo insieme se il percorso genitori con le ali può essere effettivamente la soluzione, la risposta alle tue esigenze educative.